Il Festival del Medioevo e Giuseppe La Terza ricorda poco più di un anno dalla sua scomparsa il padre, uno dei padri forse, della storiografia medievale, Jacques Le Goff. Che ruolo innanzitutto Le Goff con la casa editrice La Terza? Un ruolo straordinario, molto importante per la casa editrice, ma Le Goff ha sempre avuto una grandissima attenzione a tutti gli strumenti di funzione del pensiero. Quindi, oltre all'università, la scuola, anche le case editrici. E quindi ha fatto molto per vari editori, impegnandosi con l'editore a diffondere le sue idee sul Medioevo. Idee che, come sappiamo, sono state idee fortemente originali e di grande impegno anche civile. Ecco, qual è, se dovessimo rassumerlo davvero in una battuta, la grande innovazione di Le Goff nel guardare al Medioevo? Ma non sta a me dirlo, io non sono uno studioso. Io, quello che posso dire, è che Le Goff aveva dei temi forti, per esempio l'Europa. Un'Europa che lui viveva e vedeva criticamente, bisognava sottolineare anche i conflitti dell'Europa, però in cui credeva moltissimo, come un luogo di civiltà, di progresso, di sviluppo. E un'altra idea molto forte è sempre stata quella della laicità. Ecco, se dovessi dire due temi che nel suo lavoro editoriale sono sempre stati presenti, sono stati questi. L'idea di un festival come questo, che si ferma un momento a ricordare un grande studioso, le piace questa idea? È un tassello sul quale puoi costruire in futuro? Beh, chi più degli storici per raccontare l'oggi ricorre a quello che è successo ieri, e quindi l'opera di un grande storico, che ha dato un contributo ancora oggi fortissimamente attuale, credo che sia il modo migliore per pensare al Medioevo e anche per pensare all'epoca contemporanea. Per lei è la prima volta a Gubbio? Sono stato a Gubbio molti anni fa e quindi ci sono tornato con grandissimo piacere, poi un'occasione che considero un onore per me, essere invitata a parlare di questa figura straordinaria.